Passiamo finalmente a quella che viene comunemente definita la stesa, ovvero sia la lettura delle carte dei tarocchi. Ora vi faccio vedere come vanno posizionate le carte, il significato delle carte e dopodiché le gireremo. Ovviamente non sto facendo una lettura improvvisata, vi sto riproponendo, ho già preparato le carte, una lettura che ho fatto a una terza persona poco tempo fa. Iniziamo. Arcane maggiori, sinistra, centro e destra, lasciando un minimo di spazio in più rispetto alle altre due. Arcane minori, in basso e in alto. Ora, il significato di ogni singola carta. Partiamo ovviamente dagli arcane maggiori, la radice. Quando noi nasciamo, quando noi veniamo al mondo, nasciamo con un obiettivo, che è per la nostra evoluzione. E quella si chiama radice. La radice nel tempo, negli anni, con la nostra mutazione evolutiva, muta a sua volta. La lettura del singolo mese ci dice a che livello è la nostra evoluzione. La seconda carta, sempre un arcano maggiore, ci dice il presente, cioè in che condizione ci troviamo adesso. La terza carta, sempre un arcano maggiore, ci dice qual è il consiglio verso dove dobbiamo indirizzare la nostra evoluzione. Arcane minori. In basso abbiamo quello che viene definito il passaggio, ovvero sia lo strumento che ci serve per passare dallo stato attuale al consiglio. In alto abbiamo quello che viene definito l'oppositore, ovvero sia il freno per la nostra evoluzione. Perciò ricapitoliamo. Radice, presente, consiglio, passaggio, oppositore, arcane maggiori, arcane minori. Le carte si girano da sinistra verso destra. Giriamo le carte. Prima carta abbiamo il matto. Seconda carta abbiamo l'appeso. Terza carta abbiamo la morte. Prima carta abbiamo l'asso di spade. Seconda carta abbiamo il dieci di denari. Allora, la radice attuale, la radice è l'incoscienza, l'incapacità della persona a cui ho letto, a cui ho fatto questa lettura, di comprendere, di diventare padrona di se stessa, della sua vita. È attratta da tutte e non è attratta da niente. Il presente è un'immobilità, è immobile. Non riesce a capire come andare avanti, come andare indietro. Perciò ha bisogno di cosa? Ha bisogno di rinnovarsi, di rinascere la morte. Come fare per passare dallo stato di immobilità al cambiamento? Qua abbiamo l'asso di spade, il che vuol dire che lui deve fare una lotta con se stesso, vigorosa, deve prendere l'iniziativa, deve impugnare la spada per rompere i legami che lo tengono appeso e rinascere. L'oppositore. L'oppositore abbiamo il dieci di denari. Cosa rappresenta in questo caso il dieci di denari? Il dieci di denari rappresenta il desiderio nei confronti del materiale, il fortissimo desiderio nei confronti della carne. Il re è la forza che il materiale ha nei suoi confronti per impedirgli questa mutazione. Questo è quanto una lettura chiara, semplicissima, di pochi minuti, che non ho voluto approfondire. Con cui vi ho fatto comprendere qual è la tecnica migliore per la stesa o lettura dei tarocchi e vi ho fatto comprendere meglio, vi ho fatto entrare nel meccanismo ovviamente del come approcciarsi a arcani maggiori e arcani minori. Ovviamente non vi ho fatto una lettura dettagliata come quella che ho fatto al diretto interessato, ma ritengo che come infarinatura vada bene così. Per il resto che dire fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate, tanti like, tante iscrizioni e noi ci vediamo alla prossima.